Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di questa azienda di Fantin Asparagi che si trova ad ospedaletto in provincia di Treviso e loro producono asparagi, quindi possiamo trovare asparagi tutto l'anno, non soltanto in primavera. Ringrazio l'azienda perché vi faccio vedere direttamente che cosa mi ha inviato. Allora abbiamo questa crema di asparagi verdi, buonissima, questa di qua è molto indicata come c'è scritto qua, ideale come sugo per paste, gnocchi e risotti, ma anche bruschette, farcitura, torte salate e rustica, quindi io non vedo già l'ora di poter mettere all'opera questa crema di asparagi verdi dell'azienda Fantin. Abbiamo un'altra crema, quindi fantastica, posso divertirmi con le ricette e poi infine abbiamo questi di qua che sono gli asparagi bianchi e poi abbiamo questi che sono gli asparagi verdi, sono imbottigliati direttamente in acqua e sale, quindi fantastico tutto ciò. Io ringrazio l'azienda Fantin per questi prodotti, non vedo l'ora di mettermi all'opera a poter fare tante ricette.